Renzo Arbore, all'anagrafe Lorenzo Giovanni Arbore, nacque a Foggia il 24 giugno 1937, figlio di Giulio Arbore, dentista, e Giuseppina Cafiero, casalinga, imparentata con l'anarchico Carlo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la sua famiglia fu costretta a sfollare in Abruzzo, a Chieti, a causa dei bombardamenti alleati su Foggia. Dopo aver trascorso un periodo a Francavilla, al mare, la famiglia tornò a Foggia. Arbore frequentò il liceo, ma fu bocciato in terza. Iniziò a distinguersi come musicista nella sua città natale, suonando nella storica Taverna del Gufo, nel centro storico, e come clarinettista nell'orchestra Parker's Boys, un famoso complesso jazz foggiano. Esordì sul palco a 18 anni in un gruppo di Dixieland, a nocera inferiore, si appassionò alla musica leggera e al jazz. Nel 1964 vinse un concorso in Rai e successivamente partecipò al corso di Maestro Programmatore di Musica Leggera. Conobbe Gianni Boncompagni, con cui collaborò per trasmissioni di varietà in Rai, come Bandiera Gialla, Alto Gradimento, L'altra Domenica, Cari Amici Vicini e Lontani, Indietro Tutta. Nel 1996 divenne direttore artistico dei programmi Radio Rai. Insieme a Boncompagni, Arbore fu tra i primi a trasmettere in radio le canzoni dei Beatles, nonostante l'opposizione dei dirigenti Rai. Nel corso della sua carriera poliedrica, Renzo Arbore ha ottenuto successi in diversi campi. Si è distinto come musicista e cantante con l'orchestra italiana ed è stato un celebre conduttore radiofonico e televisivo. Memorabili sono le trasmissioni radiofoniche condotte insieme a Gianni Boncompagni, come Bandiera Gialla, 1965, Per voi giovani, 1967, e Alto Gradimento, 1970, così come le trasmissioni televisive come Speciale per voi, 1969, 1970, L'altra Domenica, 1976, 1979, Quelli della Notte, 1985, Indietro Tutta, 1998, e Speciale per me, ovvero Meno Siamo Meglio Stiamo, 2005. Ha anche intrapreso la carriera di attore e regista cinematografico, con film come Il Pappocchio, 1980, e FFSS, cioè Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene, 1983. Arbore ha il merito di aver scoperto e lanciato nuovi talenti nel mondo dello spettacolo, tra cui Roberto Benigni, Gegette Lesforo, Giorgio Bracardi, Mario Marenco, Marisa Laurito, Nino Frassica, Millie Carlucci, Daniele Luttazzi, e di aver valorizzato altri come Michele Mirabella, Luciano De Crescenzo, la microband, l'attrice Maria Grazia Cucinotta, Nina Soldano, le conduttrici televisive Luana Ravegnini e Ilaria D'Amico, l'attore Francesco Paola Antoni, la presentatrice Felicia Naiaccio e la cantante Pietra Montecorvino. Nel mondo della musica, Arbore ha iniziato nel 1972 con la NU Orleans Rubbish Band, dove NU sta per Nettezza Urbana, un gruppo che includeva Arbore al clarinetto, Fabrizio Zampa alla batteria, Mauro Chiari al basso, Massimo Catalano al trombone e Franco Bracardi al piano. Questo gruppo ha pubblicato un 45 giri contenente le canzoni She Was Not an Angel e The Stage Boy. Nel 1991, Arbore ha fondato l'Orchestra Italiana, che comprendeva 15 grandi solisti, con l'obiettivo di valorizzare la canzone napoletana classica e restituire dignità, tra le altre cose, al suono del mandolino. Renzo Arbore ha dato un importante contributo alla rinascita di Umbria Jets in qualità di presidente, dimostrando grande intelligenza nell'organizzazione della manifestazione jazzistica perugina. Nel 2002 ha fondato la band Renzo Arbore e i suoi Swing Maniacs, selezionando personalmente i migliori musicisti della scena jazzistica romana e nazionale, tra cui il sassofonista Fabiano Red Pellini, il chitarrista Emanuele Basentini, il pianista e sassofonista Giorgio Cuscito, il batterista Alberto Botta e il pianista Attilio Di Giovanni, tra gli altri. Nonostante la nascita di questa nuova band, Arbore non ha sciolto l'orchestra italiana, continuando a esibirsi con entrambe le formazioni per vari eventi. Nel 2004, Arbore si è esibito in tre concerti con l'orchestra italiana, tra cui alla Carnegie Hall di New York, al Casinorama di Toronto e al Teatro dell'Opera di Roma, con la presenza del presidente Carlo Azzeglio Ciampi. Con gli Swing Maniacs ha registrato un doppio CD intitolato Vintage, uscito nel febbraio 2005 e premiato con il Disco d'Oro, anche se l'album è stato pubblicato con il nome del gruppo, modificato in Renzo Arbore e gli Arborigeni. Nel 2008 ha prestato la sua voce al dromedario Tutankamon nel film d'animazione La Luna nel deserto, diretto da Cosimo Damiano D'Amato. Arbore è anche presidente di un'associazione italiana di disc giochi e si esibisce come clarinettista jazz. Da oltre 30 anni è testimonial della Lega del Filo d'Oro, un'associazione che assiste persone sordoceche. Nel 2007 è stata pubblicata la prima biografia musicale su Renzo Arbore, intitolata Renzo Arbore ovvero quello della musica, scritta dal giovane clarinettista e musicologo Claudio Cavallaro, suo ammiratore fin dall'infanzia. Nel 2009 Renzo Arbore ha contribuito al disco di Claudio Baglioni QPGA, esibendosi nella canzone Buon compleanno. Successivamente, il 28 luglio 2013, ha portato il tour Renzo Arbore e l'orchestra italiana alla 43a edizione del Giffoni Film Festival. Nello stesso anno Arbore ha preso parte al documentario Beat Parade di Corrado Rizza e Luigi Rizza, prodotto dall'Istituto Luce, offrendo un racconto degli anni 60 e della Beat Generation. Il 15 novembre 2010 Arbore è tornato in televisione con la trasmissione a lunga durata Arbore e gli arborigeni, trasmessa su Rai Internazionale e replicata su Rai 5. Il 27 novembre 2015 il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca lo ha nominato, insieme a Giovanni Minoli e Lia Rumma, nel consiglio di indirizzo della Fondazione Ravello, situata nell'omonima cittadina della costiera amalfitana. Nel 2018 Arbore ha partecipato alle riprese e ha concesso un'intervista a Nicola Iuppariello per il docufilm Vini Lici, perché il vinile ama la musica. Renzo Arbore e la sua banda hanno lasciato un'impronta profonda nella televisione italiana fino alla metà degli anni 90. Fin dalle prime trasmissioni degli anni 60, come Bandiera Gialla è speciale per voi, Arbore ha introdotto uno stile e delle idee estremamente innovativi rispetto ai canoni televisivi dell'epoca. Un esempio è speciale per voi, 1969, dove per la prima volta i famosi cantanti venivano sottoposti al fuoco incrociato di domande e osservazioni, anche critiche, da parte del pubblico in sala. Il successo più grande di quel periodo arriva però dalla radio, con la trasmissione Alto Gradimento, condotta insieme a Gianni Boncompagni. Arbore ritorna in televisione nei primi anni 70, nel 1972 è chiamato da Lino Procacci a condurre la trasmissione musicale Amico Flauto. Segue poi la trasmissione pomeridiana l'altra domenica, che, in concorrenza con programmi più tradizionali, introduce uno stile irriverente e goliardico anche nei programmi della domenica pomeriggio, con la partecipazione di vari artisti, tra cui Roberto Benigni, Andy Luotto, Mario Marenco e Isabella Rossellini. È la prima volta che il pubblico entra direttamente in contatto con la televisione, con in palio 20 milioni di lire e tante risate. Negli anni 80, Arbore presenta serie come Tagli, Ritagli e Frattaglie, condotta con Luciano De Crescenzo e Lori del Santo, Telepatria International, con le evocazioni spiritiche di personaggi come Dante e Cristoforo Colombo. E nel 1984, Cari amici, vicini e lontani, un programma sulla storia della radio, ancora una volta con le gemelle Nete. Nel 1985, la trasmissione di Rai 2, Quelli della Notte, raggiunge un enorme successo, diventando un vero e proprio appuntamento di culto. La trasmissione presenta una serie di personaggi comici e intellettuali che si riuniscono in una notte surreale e un po' scansonata. La chiara satira dei salotti televisivi dilaganti fa da sfondo alla trasmissione, che lancia il comico Nino Frassica nel ruolo di frate Antonino da Scasazza, divertendo mezza Italia con i suoi discorsi senza senso. La trasmissione lancia anche altri nuovi volti, come Riccardo Pazzaglia, Massimo Catalano, Maurizio Ferrini, Simona Marchini, Marisa Laurito, Mario Marenco e Andy Luotto. Quelli della Notte diventa un'icona dell'epoca, con i suoi tormentoni e le sue battute che entrano nel gergo quotidiano. L'album contenente le musiche della trasmissione vende quasi mezzo milione di copie, confermando il suo grande successo. Nel 1987-1988 la trasmissione Indietro Tutta replica il grande successo di Quelli della Notte. Il programma si propone di stigmatizzare l'invadenza della televisione di tipo più commerciale, ridicolizzandone usi e costumi. Si tratta di una parodia televisiva in cui Nino Frassica interpreta un improbabile e sgangherato bravo presentatore. Tra i personaggi memorabili della trasmissione si distingue il gruppo di brasiliane del Cacao Meravigliau, che fungeva da surreale sponsor, e le ragazze Coccodè, un corpo di ballo dal tono ridicolo. Non mancano altri personaggi, come Mario Marenco nel ruolo di Riccardino, un bambino dispettoso con grembiule e cartella scolastica, che passa il tempo a rincorrere il cane Fiocco. Il maestro Gianni Mazza guida l'orchestra Mamma Li Turchi, mentre Francesco Paolo Antoni interpreta Cupido, appeso all'altalena e intento a lanciare frecce che non trovano mai il bersaglio. La scenografia rappresenta una nave, con Renzo Arbore nel ruolo di ammiraglio, circondato da due belle ragazze che interpretano Miss Nord e Miss Sud. A Guardia del Sotterraneo ci sono le Guardiane, di cui una è la giovanissima e allora sconosciuta Maria Grazia Cucinotta e l'altra Feliciana Iaccio. Nel 1986 Arbore partecipa al festival di Sanremo con la canzone ironica Il clarinetto e si classifica al secondo posto. Durante l'esibizione del brano sul palco sanremese è accompagnato da quelli che lui stesso definisce i tre amici e il cognato, tra cui Gegé Telesforo, Nando Murolo, Adriano Fabi e Piero Roberto. Successivamente partecipa ad altri programmi televisivi come Doc e Marisa Lanui. In quest'ultimo programma, condotto da Marisa Laurito Arbore, nella veste di voce fuoricampo, anticipa il modo di fare televisione che caratterizzerà in seguito la Jalappas Band. Nel 1990 Renzo Arbore conduce Il caso Sanremo, un programma in cui presiede un processo simulato su fatti e misfatti della storia canora di Sanremo, circondato da una corte improbabile e da avvocati interpretati da Michele Mirabella e Lino Banfi. Nel 1992, in una trasmissione in quattro puntate, rende omaggio a Totò con Caro Totò, ti voglio presentare. Nel 1996 Arbore conduce senza interruzioni per 22 ore la Giostra, in diretta via satellite per Rai International, di cui è diventato direttore artistico e testimonial. Nel 2005 presenta speciale per me, ovvero Meno Siamo Meglio Stiamo, su Rai 1, una sorta di trasmissione Amarcord, che mostra la televisione memorabile spesso dimenticata, con musica d'epoca e un'atmosfera di modernariato televisivo. Nonostante sia trasmessa in terza serata, riscuote un buon successo con una media di quasi un milione e mezzo di telespettatori dopo mezzanotte, ottenendo uno share del 25%. Nel giugno 2008 viene pubblicato il libro Renzo Arbore e la radio d'autore, tra avanguardia e consumo, un volume monografico dedicato alle storiche trasmissioni radiofoniche di Arbore, scritto da Salvatore Coccoluto. Inoltre, Arbore ha ideato il gioco in scatola Mannoni Coperchi, realizzato insieme a Giancarlo Magalli e pubblicato dalla International Team. Il 15 novembre 2010, Renzo Arbore ritorna in tv con la trasmissione A lunga durata, Arbore e gli arborigeni, su Rai International e in replica su Rai 5. Il 4 settembre 2011, la Rai dedica ad Arbore una puntata monografica della trasmissione speciale TG1 Documentari, realizzata dal giornalista Vincenzo Mollica. Nel 2013 esce la sua biografia Renzo Arbore vita, opere e soprattutto miracoli, curata dal giornalista della Rai Gianni Garrucciu, che contiene numerose testimonianze di colleghi e amici di Arbore. Il 24 giugno 2015, Arbore si esibisce al Palazzo dei congressi del Cremlino in Russia, presentandosi come ambasciatore Expo 2015 e facendo spettacolo in diretta televisiva nazionale. Nel 2014 conduce il Renzo Arbore Channel Live Show, trasmesso in diretta sul canale 69 del Digitale Terrestre, 713 di SKY Capital TV, sul sito di Repubblica e su renzoarborechannel.tv. Il programma, diretto e condotto insieme ai giornalisti Ernesto Assante e Gino Castaldo, è in collaborazione con Webnotte e vede ospiti come Geggete Lesforo e Tosca con la cura di Ugo Porcelli e la regia di Denis Gianniberti. Nel giugno 2020, Arbore torna su Rai 2 con un nuovo format intitolato Streaming Zitix, trasmesso direttamente da casa sua. Il programma offre contenuti tratti dagli archivi di Arbore e da ciò che ritrova durante le sue sessioni di navigazione web notturne. Renzo Arbore ha avuto diverse relazioni sentimentali nel corso degli anni. Dopo un legame negli anni Sessanta con la cantante e presentatrice torinese Vanna Brosio, è stato accompagnato dalla cantante romana Gabriella Ferri. Successivamente ha avuto una lunga storia d'amore con Mariangela Melato negli anni successivi, seguita da una relazione con Mara Venier fino al 1997. Nel 2007 si è riunito con Mariangela Melato, rimanendo con lei fino al giorno della sua morte, avvenuta l'11 gennaio 2013. In ambito politico, Renzo Arbore è stato sempre vicino al partito radicale. Nel 2013 ha sostenuto e fatto parte del comitato Bonino presidente, che sosteneva la candidatura di Emma Bonino come presidente della Repubblica Italiana. Per quanto riguarda le vicende personali, Arbore non aveva un buon rapporto con suo padre Giulio, che non approvava la sua passione per la musica e il suo modo di vestire. Arbore ha dichiarato in un'intervista di essere stato il primo a Foggia a indossare i jeans, nonostante il disappunto del padre, che li considerava pantaloni da operaio. Suo padre avrebbe preferito che Renzo diventasse dentista, ma dato che sveniva al solo vedere il sangue, lo ha costretto a laurearsi in giurisprudenza a Napoli. Arbore è stato sospeso dalla RAI nel 1971, insieme a Gianni Boncompagni e Giorgio Bracardi, per cinque anni a causa di una scenetta con troppa carta igienica durante una puntata di Canzonissima, improvvisando da Firenze lo Scarpantibus. Inoltre è stato denunciato da Giorgio Bracardi per questioni economiche legate alla trasmissione Alto Gradimento, come confermato dallo stesso Bracardi. Il suo film, Il Papocchio, è stato sequestrato dopo tre settimane di programmazione in tutta Italia, per vilipendio alla religione cattolica, su ordine del procuratore dell'Aquila. Successivamente il film è stato amnistiato e tornò in sala dopo 40 giorni di sospensione. Grazie a tutti! Grazie.